Seconda vittoria consecutiva per l'Amen, Scuola Basca e Tarezzo che fa suo il derby di Terra Nuova contro Lottigalli. Tanti motivi di interesse per questa sfida che oltre a essere un classico derby vedeva ex su entrambe le sponde. Nelle fila Maranto c'erano Dolfi e Bianchi che hanno fatto parte della formazione valdarnese, mentre il coach Baggiani è stato in più momenti responsabile tecnico della Scuola Basca e Tarezzo. In classifica le due squadre arrivavano a questo appuntamento in piena lotta per i propri obiettivi. L'Amen per migliorare la propria posizione in vista dei play-off, Lotti per mettersi più squadre possibili alle spalle in ottica salvezza. Un risultato positivo avrebbe fatto tanto morale in vista del finale di stagione. E così sarà per l'Amen, Scuola Basca e Tarezzo. Primo quarto a favore degli Amaganto 17-15, vantaggio che inizia a dilagare nel secondo quarto, più 8-38-30. Nel terzo quarto 59-45 per la formazione di Serravalli che alla fine si impone 80-70. Altri due punti preziosissimi in classifica con la Mesba che ritrova dunque in questo derby la continuità di risultati. In classifica l'Amen, Scuola Basca e Tarezzo sale a 26 punti.